Se noi rappresentiamo il testo delle indicazioni nazionali con un word cloud, che è una rappresentazione statistica del testo, quindi già un qualcosa che entra un po' nel nostro tema di oggi, al centro ci troviamo la parola testi, al plurale. Non credo sia un caso, perché se noi leggiamo il testo delle indicazioni nazionali, troviamo moltissimi riferimenti alla diversità testuale, alla varietà di tipi di testo che si leggono a scuola. E si cita proprio, questo per mostrare che alcune delle cose che vedremo non sono solo fantasie, possono essere addirittura previste, utilizzare i testi manuali delle altre discipline come testi di lettura. Quindi leggere i testi delle discipline. Quindi sembra una cosa molto interessante. manuali delle discipline o testi divulgativi. Quindi insegnare a studiare anche vedendo i testi delle altre materie. E lo stesso vale per la scrittura. Si insiste su scrivere testi di tipo diverso, scrivere testi di forma diversa. Diciamo che sintetizzando al massimo il succo del discorso, Le indicazioni nazionali insistono molto sulla varietà dei modi di leggere e di scrivere e sulla varietà dei testi da leggere e da scrivere. Ecco, questo punto di partenza delle indicazioni nazionali, che piaccia o no, se ci pensiamo bene, è molto in controtendenza rispetto a quella che è la tradizione invece della scuola, che tende a preferire alcuni tipi di testo, soprattutto quelli letterari, e a privilegiare alcune modalità di lettura o di scrittura. Diciamo, non è proprio nel DNA della nostra tradizione questa idea che si deve leggere cose diverse, si devono scrivere cose diverse. Quindi in qualche modo tenere nell'orizzonte dell'educazione linguistica antitesti scientifici e delle materie scientifiche è un modo per dare sostanza a questa indicazione. Anche perché quello che spesso succede è qualcosa del genere. E qui mi rifaccio ad alcuni dati invalsi. Mi capita spesso di provare ad analizzare i dati complessivi, di farmi qualche domanda sui risultati, non tanto sui risultati, diciamo così, ma proprio sui risultati all'interno delle operazioni cognitive richieste dalla comprensione del testo e le domande di comprensione del testo. Un fenomeno che si nota spesso, analizzando questi dati, è che il testo narrativo risulta più facile del testo espositivo. Allora, è chiaro che la diversità di prestazioni dipende anche dal tipo di testo narrativo che di volta in volta compare e dal tipo di testo espositivo che di volta in volta compare. Però questa tendenza capita molto spesso. Questo è un esempio, ma ne posso citare molti altri, in cui il testo narrativo ha, diciamo per perdere la difficoltà media, ma ha una percentuale di risposte corrette del 63%, quello espositivo del 43%. Bene, se si vanno a vedere le domande fatte, cioè il tipo di quesiti posti sul testo, la cosa che un po' sorprende è che dal punto di vista cognitivo le domande, il tipo di operazione sul testo, il tipo di approccio al testo, non è molto diverso. Eppure questi dati ci sono. Faccio vedere un esempio. Questo è un racconto, secondo me non facilissimo per la fine primaria, passaggio secondaria di primo grado, che ha appunto i risultati che abbiamo visto. Un altro testo invece anche più accattivante, perché parla dei mostri d'acqua dolce, anche con una paginazione diversa, è un testo non continuo, è un testo che ha appunto dei box che si susseguono, risulta più difficile. Allora, molte spiegazioni che si possono dare. Credo che una possibile spiegazione sia proprio quella che la scuola abitua di meno, cioè si dedica meno tempo nella scuola, nell'esperienza scolastica, a testi di natura espositiva. Non che sia sbagliato ovviamente dedicarsi ai testi narrativi, ma evidentemente il tipo di testi espositivi con un'impostazione diversa, con un ruolo diverso delle immagini, con un ruolo diverso del tipo di lingua usata, in qualche modo sono meno frequenti nell'esperienza, sono un po' una novità, e questo forse spiega anche certi risultati. Per varie ragioni è importante fare in modo che entrambi questi testi, non solo perché ce lo chiedono le indicazioni nazionali, ma perché è importante per l'esperienza di lettori cittadini, che entrambi questi testi entrino nell'orizzonte, diciamo così, dello studente. Altrimenti facciamo come quello che diceva Giovanni Nencioni, che è stato uno storico della lingua, presidente dell'Accademia della Crusca per molti anni, che era laureato in giurisprudenza e poi in lettere, intraprese la carriera linguista di storico della lingua e prendeva in giro i colleghi che sanno scrivere un saggio di 30 pagine sull'uso di una virgola in un certo autore, ma poi non sanno leggere un bando di concorso. Quindi potremmo dire una lettura che è troppo legata ad alcuni tipi di testo, ma non sa poi questa competenza di lettura trasferirsi ad altri. Questo è un punto di partenza, una riflessione iniziale che volevo fare con voi. In concreto, che cosa significa se noi lo portiamo anche alla matematica, per esempio? Faccio un esempio della scuola primaria, perché come dire, se c'è qualche insegnante dopo sarà anche interessante magari discuterne, ma fa capire molto bene un atteggiamento che molto spesso nelle materie scientifiche, in matematica nelle materie scientifiche si ha nei confronti del test. Io, lavorando anche con insegnanti di scuola primaria, mi sono accorto che spesso gli insegnanti, gli insegnanti, spesso addirittura nei siti di aggiornamento, nei materiali, insomma, che si passavano, c'erano degli schemi come questo. I bambini devono affrontare i primi problemi, i problemi in classe, e uno schema spesso appeso proprio in classe dice che se nel problema c'è la parola che è chiamata la parola, le parole chiave nei problemi in tutto, complessivamente, somma, in totale, si deve fare l'addizione il più. Se c'è ogni ciascuno, ognuno ciascuno, bisogna fare la moltiplicazione con il per, eccetera, eccetera. Allora, questo fa molto riflettere. Fa riflettere in primo luogo perché non è affatto detto, c'è un problema per il fatto di contenere la parola in tutto, complessivamente, comporti che si debba fare l'addizione. Funziona o rischia di funzionare soltanto negli esempi finiti, negli esempi scelti appositamente e quindi danno l'illusione di aver insegnato qualche cosa. Si possono fare anche come esercizio divertente inventare un problema che abbia ciascuno ma non preveda la moltiplicazione o che abbia differenza ma non preveda la sottrazione. Sta poi un'altra informazione sbagliata, cioè che le parole chiave siano qualcosa di dato a priori che vengono prima del testo. Non è affatto vero, le parole chiave sono il frutto della lettura del testo. Si possono identificare parole chiave soltanto se c'è una lettura competente, non è un qualcosa che si può dare prima. Ma soprattutto a me pare che questo tipo di atteggiamento nei confronti del testo matematico, del testo che poi c'è anche nei cicli successivi, che c'è anche spesso con i testi scientifici più in generale, sia un rapporto di diseducazione linguistica. Perché lancio un messaggio molto sbagliato. Il messaggio cioè che il problema di matematica non è veramente un testo, non deve essere letto e capito, ma che il problema di matematica sia semplicemente un contenitore di dati che io devo come dire non tanto leggere ma una specie di incidente di percorso da togliere di mezzo il prima possibile il testo per arrivare a fare la parte matematica. E i colleghi che insegnano matematica anche all'università mi dicono che in fondo questo tipo di atteggiamento fa danni non solo alla primaria ma fa danni per tutti i cicli successivi ed è la ragione per cui anche molti studenti all'università anche magari bravi falliscono nelle prove d'esame nelle prove di emissione a contatto l'idea che in fin dei conti il testo non debba realmente essere letto che il testo di matematica non debba realmente essere letto che la lettura approfondita sia un qualcosa da tenere appunto per altri tipi di testo esteticamente più interessanti al punto tale che la didattica della matematica ha coniato una specie di categoria si chiama effetto età del capitano che nasce dai risultati della somministrazione di un problema come questo ci sono molte varianti ma sostanzialmente il risultato non cambia una nave trasporta 26 pecore e 10 capre quanti anni ha il capitano? allora ovviamente se noi leggiamo questo testo ci mettiamo a ridere la domanda non è pertinente rispetto alle informazioni date nel test quello che si nota che si è notato in varie ricerche è che una quantità enorme di bambini e ragazzi anche intelligenti risponde ad un problema come questo 36 cioè risolve il problema potremmo dire con lo schema è come se qui ci fosse quanti anni ha in tutto il capitano e quindi in qualche modo la domanda implicita è complessivamente che loro vedono e quindi i dati sono quelli 26 e 10 questa sarà la somma la somma sarà quello che ci chiede il problema ecco questa ha anche un precedente letterario una lettera di Flaubert alla sorella che studiava geometria e trigonometria e fa appunto inventa un problema assurdo in cui si chiede l'età del capitano ecco in Francia questo tipo di problema ha portato a risultati sbagliati cioè risultati in cui si faceva la somma dei dati presenti superiori al 50% e questo è proprio coniato questo effetto l'età del capitano quando non si legge con sufficiente attenzione il test faccio un altro esempio un pochino più complesso ma questo credo abbastanza interessante sempre per abbattere i muri di cui parlavamo prima questo è uno studio invece fatto con che ho fatto io con una collega matematica che si chiama Chiara Giberti qualche anno fa poi rifatto varie volte e anche in corso in maniera un pochino più metodologicamente ancora più sfondata ma fondamentalmente che cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di vedere la correlazione tra due cose apparentemente molto diverse cioè tra i risultati di ragazzi nella prova di italiano nella prova in balzi di comprensione del testo e i risultati dei ragazzi nei singoli quesiti di matematica cioè che correlazione c'è questa era la domanda diciamo metodologica che appunto poi soprattutto la matematica ha sviluppato tra il risultato che un ragazzo prende nella prova di comprensione del testo e poi il modo in cui va nelle singole domande c'è una correlazione quello che abbiamo osservato è che questa correlazione ovviamente dipende dalle domande dipende dalle domande perché ci sono delle domande sono quelle più in basso che sono poco correlate io dico risolvi l'equazione due punti e l'equazione qui non c'è molto da leggere c'è semplicemente da sapere come risolvere l'equazione ovviamente o casi simili ma ci sono invece dei casi in cui sono quelle più in alto in cui la risoluzione del problema è fortemente legata alle competenze di lettura la lettura è davvero una chiave di accesso al testo al testo di matematica al testo del quesito una carenza nelle competenze di lettura diventa anche una carenza di natura matematica e questo mi sembra molto interessante anche perché è una cosa che spesso gli insegnanti di matematica osservano ma che non è mai stata diciamo così evidenziata mostrata anche statisticamente quindi e vedete che le domande insomma delle fasce più alte quelle più correlate non sono pochissime c'è una buona fetta di domande molto correlate è una fetta di domande quelle centrali insomma invece mediamente correlate bene c'è anche un altro aspetto qui che adesso non vorrei che è la differenza di risultati il gap di risultati tra studenti madrelingua e studenti non madrelingua anche qui si vede che ci sono delle domande molto correlate a questo gap qui stiamo parlando di domande di matematica dove evidentemente questo gap è legato a competenze di lettura in questo caso anche spiegabili con il fatto che l'italiano è una lingua che si sta imparando e molte domande insomma come dire c'è anche una forte correlazione tra questi due aspetti segno che una cosa che per noi è molto distante chiaramente gli studenti di italiano ha scarso interesse per quello che succede nelle prove invalsi di matematica e in realtà sbaglia perché ci sono delle correlazioni molto forti allora questo è un esempio di domanda molto poco correlata qui è chiaro anche senza leggere bene i testi c'è questa figura 1 con questo 4 che ruota qui c'è un punto di domanda sul 5 se il 4 è qui è messo così il 5 qui come ci aspettiamo che sia messo questa è una domanda più per sviluppare i rapporti di simmetria i rapporti di capire come se uno sa immaginare la rotazione di una figura quindi qui diciamo contano proprio le competenze matematiche in senso stretto e di visualizzazione degli oggetti matematici più che la lingua ma poi abbiamo problemi anche come questo in cui c'è una forte correlazione con la prova di italiano e una forte correlazione con l'essere o non essere madrelingua i non madrelingua fanno molte più fatiche e qui vedete che io per rispondere alla domanda compilare questa tabella riempire questo buco qui non è che posso tirare e indovinare devo capire bene la situazione che si sta rappresentando e per capire bene la situazione devo leggere che Gianni partecipa a un torneo questo torneo delle regole che devo leggere rappresentare qui la lettura ha un ruolo fondamentale posso essere bravissimi in matematica ma se ho difficoltà di lettura su questa domanda mi areno questo è il senso anche del discorso perché le competenze di lettura non sono legate dire solo all'ora di italiano ma vanno oltre e stanno alla base per esempio della risoluzione dei problemi di matematica ma più in generale potremmo dire delle competenze di studio competenze avanzate nulla di nuovo probabilmente perché già da tempo gli studiosi di didattica della matematica questo è un libro degli anni 90 addirittura di area anglosassone inglese si erano accorti che l'insegnamento della matematica inizia e procede con il linguaggio avanza e inciampa a causa del linguaggio e che poi i suoi prodotti sono spesso valutati con il linguaggio ancora una volta quindi il linguaggio ha un ruolo fondamentale nell'insegnamento della matematica e questo invece è una cosa che per noi suona un pochino strana noi ci aspettiamo anche qui retaggio della tradizione che lo studente bravo in italiano va bene non vada bene in matematica non succede nulla che lo studente bravo in matematica va bene non va male in italiano ed è tutto normale in realtà dovremmo forse guardare un po' di più alle relazioni perché ci sono delle relazioni molto forti tra materie scientifiche in questo caso matematica e insegnamento dell'italiano e queste relazioni sono le competenze linguistiche che stanno alla base anche delle materie scientifiche questo è un altro esempio che volevo fare invece perché oltre che con i matematici da qualche anno collaboro con i fisici con alcuni esperti di didattica della fisica e la collaborazione è legata in maniera anche molto specifica a un problema contingente il problema nasce dal fatto che con il cambiamento dei programmi di fisica in particolare nei licei scientifici rispetto a cui ho fatto un liceo scientifico ormai anni fa chiaramente non si arrivava a parlare in fisica nel programma di fisica di teoria della relatività di Einstein era qualcosa che restava al massimo come curiosità ma ci si fermava prima oggi i programmi anche di fisica negli ultimi anni del liceo scientifico danno spazio si deve arrivare a studiare in maniera anche approfondita le teorie della fisica novecentesca di Einstein e successive relatività ristretta e così via relatività generale il problema qual è? che mentre nella fisica quella che ho studiato anch'io che avete studiato anche voi quella newtoniana sostanzialmente la matematica era uno strumento gestibile quindi si faceva fisica in stretta correlazione con la matematica la fisica di Einstein e le varianti insomma quello che si studia nel programma di quinta superiore non può essere supportato da una competenza matematica perché la matematica che sta dietro del teorie di Einstein è troppo difficile per essere per entrare per essere studiata in un liceo scientifico cosa comporta questo? che la fisica i manuali di fisica sono molto più discorsivi lasciano meno spazio a formule e a esercizi e più spazio invece a una fisica illustrata con immagini con esperimenti mentali tipici del linguaggio di Einstein e così via il risultato è che gli insegnanti si accorgono che fare fisica fare questo programma di fisica chiama in causa molto da vicino le difficoltà di lettura cioè molti insegnanti di fisica si sono accorti che lo studente che ha difficoltà poi nel programma di fisica ha queste difficoltà spesso perché si arena su alcuni aspetti della competenza di lettura linguaggio metaforico aspetti di linguistica testuale e così via e da anni abbiamo avviato dei corsi diciamo così legati al testo per insegnanti di fisica in cui con insegnanti di fisica si ragiona proprio su linguistica testuale pragmatica retorica del testo scientifico arrivando a dei risultati molto interessanti imparando anche a vedere le difficoltà le criticità del testo naturalmente trattando a volte vedendo come si possa anche risalire ai testi di divulgazione dello stesso Einstein che spesso sono molto più chiari e tutta una serie di passaggi però di fatto il lavoro che gli insegnanti di fisica fanno sul testo è un lavoro di lettura con strumenti linguistici potremmo dire anche avanzati e quindi mi pareva giusto come dire citare anche questo caso perché causa insomma anche molti di voi che magari insegnano in licei scientifici in cui probabilmente il lavoro su questi testi è un'ottima palestra di lavoro comune tra materie diverse non è una novità su questo vado un pochino più veloce perché sono cose credo note ai più non è una novità perché comunque nel nostro panorama culturale pedagogico linguistico la prima non tanto la prima affermazione in senso stretto ma la prima messa per iscritto di questo problema di questa necessità di allargare l'educazione linguistica a tutte le materie risale al 1975 quindi a una certa età potremmo dire ed è nelle dieci tesi per l'educazione linguistica e democratica del Gissel come sappiamo la cui prima redazione è dovuta a Tullio De Mauro poi un testo collettivo qui si dice per la prima volta per iscritto che la pedagogia linguistica tradizionale pretende di operare settorialmente nell'ora di italiano e ignora la portata generale dei processi di maturazione linguistica e quindi la necessità di coinvolgere nei fini dello sviluppo delle capacità linguistiche non una ma tutte le materie non uno ma tutti gli insegnanti quindi usare i testi delle altre discipline per farne come si dice il titolo di questo intervento palestra di educazione linguistica non è una novità perché lo sviluppo e l'esercizio delle capacità linguistiche non vanno mai proposti e perseguiti come fini a se stessi ma strumenti di più rica partecipazione alla vita sociale e intellettuale quindi insegnare anche lo studio e quindi questo chiama in causa più da vicino se vogliamo le competenze di lettura e di scrittura dico subito che oggi parlerò probabilmente un po' di più di competenze di lettura ma ci sarebbe anche molto da dire sulle competenze di scrittura legate alle materie scientifiche perché noi siamo abituati a pensare alla lettura un po' come la lettura di un romanzo la lettura come atto solitario quando sappiamo che questa è una cosa relativamente recente ed è legata agli sviluppi della stampa alla nascita del libro tascabile quindi manuzio ruolo di bembo e così via eppure dobbiamo tenere presente che quando parliamo di insegnare a leggere stiamo in realtà scusate e qui non c'è tempo per approfondire il discorso che ci porterebbe molto lontano ma quando diciamo leggere un testo intendiamo quattro cose diverse distinte e diverse probabilmente sono cose note molti di voi che ci interessano adesso per entrare poi nel discorso della lettura dei testi delle materie scientifiche ma noi di solito distinguiamo quattro diverse modalità di lettura una molto veloce la lettura esplorativa o skimming quando io scorro il testo molto rapidamente per vedere di che cosa parla quindi una lettura rapidissima che ovviamente è molto sbagliata se lo studente usa la lettura esplorativa per prepararsi a un'interrogazione di storia o di letteratura o di geografia o di quant'altro ma chi ha fatto una tesi di laurea sa bene che avere competenze di lettura esplorativa è fondamentale per passare in rassegna centinaia di libri e volumi e tirare fuori da centinaia di libri i due tre quattro che poi servirà a approfondire e che servono davvero rispetto ai propri obiettivi secondo passo la lettura selettiva lo scanning quando io leggo molto rapidamente però tutto non saltando come nel caso di prima ma leggo tutto per identificare alcune informazioni o alcuni dati ma poi quello che ci interessa è l'opposizione tra gli altri due modalità di lettura su cui spesso secondo me la scuola in alcuni casi tende un po' a far confusione tende un po' a confondere questi due aspetti cioè mi riferisco alla lettura estensiva e alla lettura intensiva dove la lettura estensiva è per capirci quella che facciamo quando leggiamo un romanzo per il piacere di leggerlo siamo a casa sul divano nel momento di relax tiriamo fuori un romanzo a chi ci piace lo leggiamo ci immergiamo nella lettura ma di fatto quando leggiamo un romanzo per il piacere o un articolo di giornale un editoriale che ci interessa che ci appassiona ci accontentiamo anche di non capire esattamente tutto quello che quel testo dice noi stiamo leggendo un romanzo e non ci torna un fatto non conosciamo una parola o altro non è che ci fermiamo e finché non abbiamo terminato di leggere non abbiamo recuperato quell'informazione e non andiamo avanti in qualche modo ci si accontenta e si va avanti perché conta più la comprensione della storia l'argomentazione generale e così via ma c'è un passo successivo che è la lettura intensiva potremmo dire la lettura per lo studio che è quella che noi facciamo quando leggiamo per lo studio appunto e quando leggiamo per lo studio ci armiamo magari a seconda delle abitudini di ciascuno di noi di righello evidenziatori colorati pastelli prendiamo appunti altra cosa che si fa per lo studio che non si fa nella lettura di un romanzo è andare avanti indietro io leggo un testo si cita un personaggio storico nel manuale di storia non ho presente chi sia prendo l'enciclopedia vado a vedere poi con quell'informazione torno sul testo torno più e più volte no faccio una prima lettura poi ci ritorno poi sintetizzo scrivo a fianco dei titoli e così via ecco a scuola a volte come dire che vi siano due almeno queste due modalità distinte non è sempre presente e a volte come dire è molto bello quando noi appassioniamo alla lettura una classe o degli studenti però attenzione è che molto spesso appassioniamo alla lettura estensiva ma resta la compia del passo successivo che è la lettura intensiva quando noi studiamo un testo quando noi risolviamo un problema di matematica o studiamo scienze o qualsiasi altra cosa abbiamo bisogno di questo passo in più che è la lettura intensiva quella che è anche una lettura potremmo dire consapevole per citare quello di riferimento a Xepida la competenza la competenza di lettura è capire usare valutare riflettere sui testi con degli obiettivi molto specifici essere engaged con il testo in un rapporto stretto quasi un corpo a corpo con il testo che è un qualcosa di molto importante ma che richiede anche molta fatica e molto lavoro per citare un altro saldo che è Marianne Wolff una neuroscienziata lei parla di creare dei lettori profondi e con noi abbiamo bisogno di formare dei lettori profondi l'idea di questo incontro è che possono darci una mano per questo scopo anche le materie scientifiche i loro testi proprio perché diversi dei testi che si leggono nell'ora di italiano perché ricchi di sfide che si collocano su piani che non sono gli stessi di un racconto difficile in qualche modo ci sfidano e ci chiamano a un qualche cosa di diverso per usare l'immagine molto bella che cito spesso che mi ha dato proprio l'insegnante con cui mi ero confrontato i nostri studenti di oggi sono abili surfisti del testo ma peraltro la quantità di testo che leggono è sicuramente molto più ampia molto più grande rispetto a quella che noi alla loro età leggevamo perché questo continuo essere esposti a messaggi essere sempre in rete e whatsapp tiktok è un continuo confrontarsi con i testi che la generazione come dire che non ha vissuto l'era non solo di internet ma di internet sul cellulare probabilmente oppure dei primi messaggi sms non ha vissuto quindi la quantità di testi che riescono a processare è molto ampia ma restando sempre su un livello superficiale la scuola ha il dovere direi di aiutare gli studenti a diventare lettori profondi per usare il linguaggio di mariano wolf o potremmo dire per restare nell'immagine del surfista a farli diventare anche degli abili palombari che magari non si spostano rapidamente ma in un punto sanno andare a fondo sanno entrare nel testo sanno diventare lettori profondi del testo visto il tempo che tiranno su questo magari vado un po' più veloce semplicemente per dire che questa idea della trasversalità attraversa tutti i documenti ufficiali della nostra scuola dal primo ciclo competenze nella lingua italiana che non è responsabilità del solo insegnante in italiano ma compito condiviso da tutti gli insegnanti ciascuno per la propria area o disciplina è necessario che l'apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti che in questa prospettiva coordineranno le loro attività la lettura la competenza di lettura riguarda tutte le discipline per citare alcuni passi ma in realtà ce ne sono molti altri ma non cambia molto la situazione se ci spostiamo nel secondo ciclo e quindi nelle indicazioni nazionali per i licei per esempio nelle indicazioni per i licei si legge che uno dei caposaldi dei criteri costitutivi è la competenza linguistica nell'uso dell'italiano come responsabilità condivisa l'obiettivo trasversale comune a tutte le discipline senza esclusione alcuna quindi anche la matematica e le scienze la competenza linguistica è responsabilità di tutti gli insegnanti insegnare a leggere chiama in causa tutti gli insegnanti ma non solo nel senso che ciascuno occorrerà la lettura dei suoi testi che occorrono delle sinergie quello che io cercherò di mostrare è che gli spunti linguistici che provengono dalle discipline scientifiche sono estremamente interessanti anche per l'italiano e ci consentono di vedere un tipo di lingua che altrimenti rischieremo di perdere rischieremo di non mettere sotto il riflettore sotto il microscopio dell'analisi linguistica addirittura le indicazioni per i licei dicono la trasversalità dell'insegnamento della lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata potremo discutere dopo su tutte le difficoltà anche organizzative nel rispondere a quello che le indicazioni nazionali ci dicono ma sta di fatto che il principio è posto in maniera molto chiara e direi anche inetivo capi impone che l'insegnante dell'italiano collabori con le altre discipline se c'è qualche insegnante invece di istituto professionale o tecnico questo insomma di cui vado molto veloce ma insomma è ricchissimo di spunti di trasversalità di collaborazione e così via proprio perché ci sono moltissimi margini di lavoro comune sui testi tecnici le relazioni tecniche i testi multimediali il linguaggio settoriale e così via di collaborazione tra insegnante di italiano e altre discipline piace anche citare qui una una frase celebre di Roman Jacobson sui saggi di linguistica generale che insomma diceva che il ruolo del linguista è coprire la lingua in tutta la sua complessità e parafrasando Terenzio dirò linguista sum linguistici nel a me alien un puto cioè sono un linguista non c'è niente nella lingua che mi sia estraneo bene potremmo girare questa frase non solo al linguista ma all'insegnante di italiano e dovrebbe parafrasare Terenzio dicendo sono un insegnante di italiano non c'è niente nella lingua italiana che mi sia estraneo anche i problemi di matematica o i manuali di scienza allora se noi iniziamo a guardare con occhio scientifico i testi di matematica dopo arriveremo anche ai testi di scienza ci accorgiamo che i testi di matematica sono fatti con un lessico particolare usano un certo lessico specialistico usano alcune forme alcune strutture morfosintattiche penso per esempio a certe preferenze per il gerundio o certe costruzioni nel gerundio che si trovano con molta frequenza nei testi di matematica penso oppure quando poi entreremo nelle scienze penso alla forme passive un altro aspetto molto interessante c'è una preferenza per alcune strutture sintattiche anche qui con delle differenze che possono oscillare da uno spingere all'estremo l'ipotassi con frasi molto lunghe complesse complesse ma anche con strutture molto particolari estremamente dense addirittura prive di forme verbali che chiamano in causa difficoltà di natura diversa di complessità sintattica si manifestano con alcuni generi testuali molto precisi e hanno alcuni modi di costruzione del significato su cui ci si può soffermare allora per il lessico noi potremmo vedere dei conflitti tra il linguaggio comune e il linguaggio specialistico questo è un esempio un po' divertente se vogliamo ma realistico per l'inglese ma si potrebbe pensare anche per l'italiano nel compito di Peter cui richiesto di espandere A più B B alla N scrive A più B alla N sempre in forma più espansa espande e quindi in qualche modo forse scherzando certamente scherzando forse con anche intento di prendere in giro Peter sovrappone il significato specialistico di espandere il polinomio a espandere nel significato comune dove potrebbe essere anche accettabile qualcosa del genere o ancora questo è sicuramente un falso che circola in rette ma anche questo è divertente può aiutarci a far capire il problema in base ai riportati trovare la X qualcuno dice trovare fa una freccia e dice è qui è chiaro che non è quello che il problema richiede è l'applicazione del problema del teorema di Pitagora quindi della terna pitagorica ma il trovare nel linguaggio comune è in qualche modo plausibile quindi questo conflitto tra il linguaggio comune e il linguaggio della matematica è estremamente interessante può sembrare una battuta tutta di spirito ma in realtà questo conflitto tra il linguaggio comune e il linguaggio specialistico è spesso alla base di problemi con la matematica se ne sono accorti già da tempo alcuni insegnanti di matematica la cattiva comprensione la misconcezione come dicono i matematici di alcuni concetti è legata proprio alla sovrapposizione di rappresentazione di una parola nel linguaggio comune rispetto al significato specialistico ne potrebbe fare una lunga lista la base di una figura geometrica dove nel linguaggio comune la base è qualcosa che appoggia la base di una figura geometrica può essere anche storta anche obliqua l'altezza anche questa l'altezza per noi è legata all'altezza di una persona quindi la verticalità in matematica può avere anche assumere anche come dire forme diverse il vertice l'angolo sono tutte come dire parole che noi usiamo nella lingua di tutti i giorni che hanno un significato molto più esteso rispetto al significato molto preciso della matematica e spesso non basta imparare a memoria una definizione per risolvere il problema anzi molto spesso imparare a memoria una definizione amplifica questo aspetto ecco uno degli esperimenti che abbiamo fatto in alcune classi è stato proprio quello di sottoporre dei colloqui di lettura cioè far leggere ad alta voce con uno ricercatore che faceva delle domande alcuni testi in questo caso di teoria della parte di spiegazione del manuale di matematica e di verificare che ci sono per esempio molti problemi di questo tipo in cui c'è un conflitto tra linguaggio comune e linguaggio specialistico lo stesso per la sintassi alcune costruzioni molto specifiche poi come dire se si va ad osservare la comprensione di tipi di testo di frasi complesse come questa gli angoli compresi fra dei lati disuguali sono congruenti una specie di confisso di frasi frasi confisse una dentro l'altra che in qualche modo vanno smontate anche con gli strumenti dell'analisi del periodo insegnata agli insegnanti di italiano molto spesso una cattiva comprensione della sintassi del periodo di frasi come questo porta si riflette in cattive comprensioni dei contenuti matematici spiegati in questo caso si tratta proprio di qui c'è proprio la spiegazione la trascrizione di quello che dicono gli studenti che spesso non capiscono la struttura sintattica e quindi non capiscono il senso di ciò che leggono e quindi man mano che il ricercatore fa delle domande in qualche modo a un certo punto capisce qual è la struttura sintattica e quindi qual è il significato della frase quindi qui vedete come comprensione matematica in questo caso va di pari passo con la decifrazione sintattica di un testo nel resto i problemi i testi di matematica sono molto interessanti dal punto di vista linguistico se ci spostiamo sul piano della testualità questa è un'analisi che abbiamo fatto di un testo ma si può fare tranquillamente in classe anche con un qualsiasi testo usato si vede è che la stessa pagina di un manuale di matematica ricorre a forme diverse si può quindi una forma impersonale si può calcolare subordinate implicite sapendo che in cui appunto non c'è un soggetto poi c'è un esempio che dice calcola l'area si dà del tu sotto nella teoria si ritorna al noi come possiamo vedere e poi si torna all'impersonale si deve allora come dire quello che per noi può essere facilmente gestibile vuol dire che c'è una difficoltà di fondo nel rapporto tra lettore e libro di testo è vero che possiamo identificare anche delle diciamo così delle regolarità si dà del tu negli esercizi e così via ma in realtà questo è molto meno banale da comprendere molto spesso i libri di testo anche questo è stato studiato sono pieni di rinvii anaforici si fanno riferimento a qualche cosa che si è già visto le proprietà che abbiamo già incontrato in precedenza anche qui vi risparmi i dettagli da quali siano le proprietà già incontrate in precedenza se poi lo si va a chiedere come dire si invita a leggere ad alta voce il testo e si trascrive anche come dire si vede che gli studenti hanno molta difficoltà a capire quale sia il rinvio anaforico in questione che in questo caso per esempio confondono con questa parte di testo che non è quella invece di chiamata e quindi in qualche modo se io interpreto in modo non corretto il rinvio ad una qualcosa già citato in precedenza è chiaramente comprometto tutta la comprensione e in effetti la difficoltà di comprensione è proprio legata a capire quali siano le proprietà di cui si sta parlando vedete che molto spesso in queste trascrizioni comparano queste forze a un certo punto capiscono ma è stato necessario che il ricercatore guidi alla corretta interpretazione segno che evidentemente ci sono degli ostacoli di natura linguistica proprio la comprensione del testo e ci sono molti esempi che noi possiamo fare ma su questo magari vado un pochino più veloce c'è persino un altro piano che tendiamo a trascurare che è la grafica la grafica come dire molto spesso nei manuali di matematica e forse non solo in quelli vale anche per molti manuali in generale è affidata a persone diverse rispetto agli autori dei manuali e quindi può capitare per esempio che in un testo come questo che richiede una lettura di questo tipo questa poi questa poi questa e con questa scendo giù può capitare che lo studente legga per colonne non comprendendo assolutamente nulla di quello che è stato detto e capito quindi in qualche modo una difficoltà di rapportarsi con il testo si riflette in una difficoltà di comprensione più generale c'è un altro aspetto che mi piace citare che è molto interessante e molto particolare anche perché anche questo è troppo spesso a torto trascurato dall'esperienza scolastica che è la dimensione pragmatica dei testi ecco i testi di matematica molto spesso ci possono consentire di riflettere su spunti di natura pragmatica molto rapidamente perché è un discorso ampio che ci porterebbe anche un po' fuori strada però chi si è chiesto che cosa significa risolvere un problema di matematica ha capito alcuni aspetti importanti che qui sono rappresentati dal framework dal quadro di riferimento dalle prove Ox e Pisa che hanno per la prima volta proposto questo modello si chiama ciclo della matematizzazione questo ciclo della matematizzazione ci dice che l'insegnante italiano c'entra molto con la matematica molto più di quello che spesso pensiamo perché risolvere un problema di matematica vuol dire partire da un problema in contesto un problema del mondo reale la mamma ha comprato a Luigi faccio un esempio della scuola primaria capiamo tutti 10 caramelle se Luigi ne aveva già 5 in casa quante caramelle ha ora Luigi quindi un problema in un contesto che può essere più o meno complesso per risolvere il problema matematico io devo passare da questo problema in contesto alla formulazione di un modello astratto che mi porti a dire che devo fare 10 più 5 che fa 15 una volta che io ho matematizzato quindi sono passato dal mondo reale al mondo matematico con gli strumenti della matematica in questo caso la somma ma possono essere strumenti anche molto più complessi arrivo ad un risultato matematico 15 ma questo risultato devo riportarlo nel mondo reale è un po' come se un problema che vi chiede di calcolare quante scatole di mattonelle servono per il pavimento per piastrellare il pavimento di una certa stanza venga fuori che le scatole sono 4,6 ecco 4,6 è un risultato matematico ma nel risultato nel mondo reale io 4,6 non mi serve da nulla non esistono 4,6 scatole di mattonelle esistono 5 mattonelle 5 scatole quindi devo reinterpretare i risultati e riportare il risultato nel mondo reale per validarli e risolvere il problema e chiudere il circolo ora l'insegnante di matematica è il sovrano potremmo dire dei movimenti che avvengono in verticale utilizzare la matematica per risolvere un problema matematico e arrivare a un risultato è una cosa che ha a che fare con quello che insegnano gli insegnanti di matematica ma tutti i movimenti orizzontali questo e questo sono movimenti linguistici sono movimenti comunicativi hanno a che fare con la rappresentazione del mondo attraverso la lingua e come poi la rappresentazione del mondo abbia dei dati dei contenuti matematici che io devo in qualche modo formulare e anche questo quando arriva un risultato riportare il risultato nel mondo reale ha a che fare con la capacità di astrazione con la capacità appunto di inserire un contenuto linguistico all'interno di un preciso contesto pragmatico quindi potremmo dire che i problemi di matematica sono anche problemi di lingua problemi di pragmatica problemi di uso della lingua in contesto e questo apre le strade a tante considerazioni diverse un matematico d'amore nel 1990 aveva fatto una ricerca in cui un problema che parlava di matite cioè studiava i risultati la difficoltà di un problema in cui si parla di matite cambiando la parola matite con alcune parole inesistente le orettole oppure addirittura con sequenze casuali di caratteri scoprendo che i risultati fondamentalmente non cambiavano e questo non è un bel dato perché vuol dire che i bambini risolvevano il problema come dire indipendentemente da un problema linguistico indipendentemente da un mettere in un contesto reale quello che loro stavano facendo diciamo più grandi potrebbe essere una capacità di astruzione ma qui è sostanzialmente una difficoltà di lettura e di rappresentazione linguistica del testo possiamo dire che è un po' l'effetto del capitano di cui parlavamo prima un esempio di questo tipo legato a un esempio di un testo di matematica per la scuola primaria quindi facile da capire è una prova in valsi in cui si chiedeva una classe di nove maschi e dieci femmine accompagnati dalla maestra Gianna e dalla maestra Luisa sale sul pulmino per andare in gita e restano due la classe sale sul pulmino e restano due posti liberi quanti sono in tutto i posti a sedere per i viaggiatori sul pulmino allora qui si richiede di rappresentare la situazione la cosa come dire se vogliamo più preoccupante è che la maggioranza della risposta è diciannove effetto età del capitano i bambini hanno fatto semplicemente la somma dei dati che si vedono nove e dieci alcuni hanno aggiunto a nove e dieci le due maestre o forse i due posti liberi ma solo una piccola parte il diciassette per cento riesce a fare nove più dieci più Gianna più Luisa ventuno più i due posti liberi ventitré questo non è un problema non è che i bambini non sappiano fare la somma diciannove più due più due è un problema di rappresentazione linguistica di un contenuto testuale quindi qui prima ancora di un problema matematico c'è un problema di rappresentazione del test salvano probabilmente quei bambini che rispondono ventuno perché magari rispondono che le maestre stanno in piedi a guardare come va la situazione quindi hanno risposto diciamo sbagliando rispetto alle attese del risultato ma in qualche modo rappresentandosi il testo in cui le maestre stanno in piedi o ancora un altro esempio divertente di rappresentazione linguistica di un testo è l'uso degli impliciti in un parcheggio Carlo conta cento ruote quante robili sono parcheggiate questo è un problema secondo me un po' infelice nessuno conta quante macchine ci sono in un parcheggio contando le ruote ma sostanzialmente è chiaro che qui si chiede di fare cento diviso quattro e dire che ci sono venticinque auto però siccome i testi sono sempre inseriti in un contesto pragmatico ci sono anche bambini che dicono cento diviso cinque perché le macchine hanno una ruota di scorta e magari hanno in mente il SUV che hanno visto in giro per la città quindi in qualche modo entra sempre in gioco la rappresentazione perché quando noi leggiamo un testo abbiamo la necessità di rappresentarcelo di inventare un contesto e questo lascia molti molti margini di intervento ci sono anche le immagini in cui i bambini possono cogliere degli impliciti a cui lo stesso autore del problema non aveva pensato all'uscita dalla scuola ci sono tre nonne non l'Alberta che ha quattro nipoti non la Barbara che ne ha il doppio non la Carolina che ne ha un quarto della prima qui è chiaro c'è una difficoltà proprio linguistica nel cogliere il passaggio ne ha il doppio quindi tutti i riferimenti anaforici e i rapporti tra parti del testo ma in realtà c'è un implicito un bambino dice no per risolvere il problema devo sapere se le tre nonne hanno nipoti in comune e in effetti il testo non dice nulla quindi in qualche modo l'odatto è scontato ma se le donne avessero se nonna Alberta e nonna Barbara stessero aspettando lo stesso bambino in due in qualche modo tutto l'impianto del problema verrebbe meno ecco allora questi piccoli esempi ci mostrano come pensare al problema di matematica nell'attività matematica come un qualcosa dislegato dai problemi testuali in questo caso dei problemi pragmatici testuali appunto è un qualche cosa di abbastanza sbagliato potremmo dire qualcosa che ci fa perdere per strada una parte importante del senso e del lavoro sul testo un altro esempio anche questo dalle prove invalsi ci fa capire come il confine tra il ragionamento matematico e il ragionamento diciamo così linguistico to core sia molto sottile era un problema in cui si diceva che Elisa ha trovato lavoro in una città distante 50 km dal paese dove abita e deve decidere tra due soluzioni trasferirsi in una città dove lavora pagando un affitto di 200 euro al mese oppure andare e tornare ogni giorno in auto per 22 giorni al mese sapendo che l'automobile di Elisa fa 10 km con un euro di denzio quale soluzione fa spendere di meno? ecco qui la cosa interessante è che i bambini fanno molta fatica questa è una quinta primaria a fermarsi sul piano puramente matematico e nel loro ragionamento chiamano in causa aspetti che non sono matematici ma che hanno a che fare invece con la rappresentazione pragmatica del testo qualche bambino dice ah perché così non sei costretto a fare sempre la benzina ah perché è meno pericoloso trasferirsi in una città rispetto a fare avanti indietro ah perché così non fa avanti indietro con la macchina e non si stanca quindi in qualche modo la sovrapposizione tra ragionamento matematico e ragionamento linguistico in senso più generale di rappresentazione il rapporto tra testo e realtà resta sempre sullo sfondo resta sempre presente un po' come quei problemi sempre invalsi in cui si Francesco afferma una certa cosa matematica spiega perché ha ragione alcuni burloni rispondono ha ragione perché mi fido di Francesco che chiaramente è una negazione del principio matematico e dell'intento matematico di un quesito del genere ma di fatto non fanno altro che applicare un argomento uno pseudo argomento della retorica l'argomento d'autorità che è quello che noi nella nostra vita quotidiana facciamo molto spesso perché sostieni così perché me l'ha spiegato la mia amica che è un'autorità in questa materia e quindi mi fido di lei e in qualche modo faccio mio questo ragionamento quindi la sovrapposizione è sempre presente tanto è vero che una matematica Rosetta Zanna una matematica molto attenta alla lingua e anche chi usa con molta ormai proprietà gli strumenti della linguistica Rosetta Zanna appunto parla di problemi a quadretti e problemi a righe ci sono dei problemi a quadretti che sono quelli materia degli insegnanti di italiano ma ci sono i problemi a righe che sono invece una palestra di educazione linguista vado un po' veloce perché poi ho anche molte altre cose da mostrarvi prima della fine del tempo e poi mi piacerebbe anche lasciare spazio a qualche domanda a qualche obiezione rispetto a quello che sto dicendo un'altra attività che stiamo facendo in alcuni contesti scolastici è provare a far ragionare i ragazzi sulla matematica nella storia il testo di matematica nella storia e in effetti se noi andiamo a vedere i problemi di matematica del passato dall'ottocento in poi abbiamo come dire una rappresentazione visiva del problema tra testo e realtà che è chiaramente un problema non solo programmatico ma potremmo dire anche un problema storico e quindi in qualche modo capiamo vediamo che i testi di matematica sono legati al loro contesto e questo può essere oggetto di interessanti riflessioni anche in classe questo lo abbiamo fatto in alcune classi di primaria ma lo stiamo facendo anche in alcune classi di liceo scientifico in cui gli studenti hanno analizzato non tanto i problemi ma hanno preso degli argomenti già studiati in matematica e poi hanno preso dei manuali di matematica dell'ottocento e hanno analizzato il modo in cui quel concetto matematico già studiato era spiegato linguisticamente con la sensibilità con la lingua di un secolo un secolo e mezzo prima i risultati sono è una ricerca ancora in corso ma i risultati sono molto interessanti perché nasce una consapevolezza linguistica e soprattutto nasce la consapevolezza che lingua e contenuti vanno di pari passo che in qualche modo la matematica ha bisogno di un veicolo linguistico per essere realizzato allora se noi scorriamo i problemi del passato vediamo che i problemi dell'ottocento erano pieni di personaggi per noi strani come i mercanti i droghieri i possidenti le famigliuole e quello che facevano era molto legato alla sensibilità e anche alla retorica potremmo dire dell'epoca la sarta che pone le guarnizioni di una sottana chiaramente ha a che fare con una certa anche concezione oppure la massaia anche questo concetto insomma che chiaramente è abbastanza una parola abbastanza desueta per un ragazzo di oggi oppure i problemi di matematica dell'ottocento sono pieni di fanti battaglioni reggimenti di conteggi di reggimenti e così via quanti vanno in battaglia eccetera eccetera che anche questo sono molto strani rispetto alla nostra sensibilità oppure si vede si può vedere come i problemi del regime fascista siano pieni di un uso ideologico del problema di matematica sono studiato dalla fondazione Cervi ma anche da altre fonti in cui ci sono problemi in cui si deve l'ideologia fascista entra nel problema e quindi qui si deve fare dei conti sui volantini con scritto viva il Duce gettati nell'inaugurazione di una nuova strada o ancora questo problema molto come dire in cui l'ideologia è evidente in cui si fanno dei conti di salari tra i comunisti che hanno poco voglia di lavorare e i fascisti che invece i lavoratori guadagnano una certa somma ma potrei continuare a lungo perché sono tutti problemi con conteggi di figli della lupa piccole italiane conteggi di pesi di anelli donati alla patria eccetera eccetera e quindi come dire l'oggetto la realtà entra in questo caso anche portandosi dietro l'ideologia imperante e poi come si vede come nel secondo l'opoguerra i problemi cominciano a parlare di tralasciamo un attimo troisi cominciano a parlare o all'inizio sono ancora nostalgici nel passato ma poi cominciano a entrare gli impiegati commercianti e anche le industrie e quindi si comincia a fare conti di lustre di illuminazione di impianti elettrici da installare imprese di costruzioni in cui in qualche modo il boom economico e l'industrializzazione entra anche in quello che chiedono e rappresentano i problemi di matematica tutto questo per dire come il rapporto tra lingua matematica in questo caso anche storia sia ricchissimo di contatti tutti ancora da esplorare vado avanti ancora un po' se c'è tempo dopo torneremo su altre attività che si possono fare linguistiche sui problemi di matematica ma volevo dire qualcosa invece sul manuale di scienze il manuale di scienze spesso è un manuale fatto così c'è un manuale in cui rispetto magari al racconto o al romanzo non è un testo continuo ma è un testo misto in cui c'è un testo base che è questo ma io non posso leggere solo questo perdono moltissimi pezzi importanti di informazioni perché questo testo dialoga con questo box laterale che dà delle informazioni che non sono semplicemente riassuntive di quello che c'è nel testo principale ma sono informazioni in più che io devo leggere in parallelo a questo testo ma devo leggere anche questo grafico che non è semplicemente la rappresentazione di un qualcosa che c'è nel testo ma è un vero e proprio blocco informativo a sé stante senza il quale non capisco quello che dice il testo base e quindi devo leggere un grafico con l'uso dell'acqua nei vari ambiti e le percentuali e un commento che spiega questa cosa e ancora un'immagine delle immagini con delle specie di fumetti che anche questi mi danno delle ulteriori informazioni utili per capire il grafico e per capire il blocco centrale del testo i testi di scienze potremmo dire che vale anche ormai per i testi di storia di geografia sono testi misti in cui io devo imparare a tenere insieme quello che è sparso nella pagina ecco tenere insieme questo tipo di lettura non è più difficile o più facile è semplicemente diversa chiama in causa risorse cognitive di natura diversa potremmo dire che mentre un testo continuo io leggo un capitolo dei promessi sposi chiamo in causa la memoria di lavoro e devo tenere insieme un testo nello svilupparsi temporale perché arrivato alla fine del capitolo devo magari leggere in passaggio avendo in mente quello che ho letto all'inizio se non addirittura nel capitolo precedente e quindi lo sforzo è soprattutto di tenere insieme quello che si sviluppa in un tempo ampio di lettura ampio qui non c'è questo tempo di lettura ampio è lo spazio in qualche modo che esplode e devo tenere insieme quello che è sparso in luoghi diversi della pagina quindi in qualche modo lo sforzo cognitivo è di natura diversa uso meno la memoria di lavoro ma devo usare molto questi rapporti in cui metto un'informazione all'interno di un testo in cui spesso non c'è un centro e quindi ho a fare con qualcosa di complesso e questo è molto frequente nei testi delle discipline non solo tra l'altro di scienze anche qui ho un grafico che mi dà delle informazioni che non sono secondarie non sono una semplice illustrazione sono un qualche cosa che integra e si fonde con quello che viene spiegato nel testo base o pensate a immagini come questa in cui si rappresenta la cellula e qui capite che il testo non è semplicemente una spiegazione a voce dell'immagine ma in qualche modo è un po' una partita di tennis tra questo blocco di testo e l'immagine con le sue parti io devo tenere insieme tutte queste parti anche rispetto poi a quello che leggerò nella divascalia sotto quindi c'è una complessità di natura diversa e questo è molto frequente può capitare che ci siano cartine di questo tipo grafici anche molto complessi come questo che va addirittura su due distinte pagine può capitare che ci siano formule immagini che hanno bisogno di essere integrate nel testo questo per esempio quando prima ho parlato delle difficoltà degli studenti di fisica di quinta liceo scientifico era anche questo ruolo delle immagini che sono parti integranti del testo e spesso gli studenti magari sono abituati a pensare alle immagini come a un qualcosa che si può tranquillamente saltare invece se io salto un'immagine del manuale di scienze perdo un pezzo importante di significato dati se c'è qualcuno del liceo di un istituto per esempio alberghiero è capitato anche di lavorare in un istituto alberghiero con gli insegnanti delle discipline e avevamo messo a punto su richiesta degli insegnanti come dire delle modalità di rappresentazione delle ricette che loro devono poi realizzare nelle ore di cucina e quindi questi sono i passaggi le procedure per il risotto con una certa rappresentazione che i ragazzi devono anche abituarsi non solo a leggere ma anche poi a realizzare per iscritto e anche questo è una qualcosa di molto interessante così come è molto interessante anche questo è un esempio che io cito spesso se io leggo la terminologia per la degustazione del vino quella che studia chi vuole diventare sommelier abbiamo degli indicatori l'esame visivo olfattivo e gusto olfattivo in cui devo dire se la limpidezza del vino all'esame visivo è limpida cristallina il vino brillante qui ciascuno di noi dice ma non sono dei sinonimi certo sono sinonimi nella lingua comune ma non lo sono nel linguaggio specialistico in questo caso della degustazione del vino non chiedetemi cosa distingue un vino limpido da un vino cristallino e da un vino brillante ma evidentemente in qualche cosa che si studia e che fa capire molto bene l'uso della lingua delle discipline specialistiche si prende un qualcosa di esistente nella lingua comune e attacco a questa parola della lingua comune un significato in più in qualche cosa che va oltre la lingua comune con tutte le difficoltà in qualche modo collegate a me colpiva per esempio nei manuali di scienze esercizi come questo in cui queste strutture molto particolari devono essere descritte pensate a lavorare sul testo descrittivo quando si ha a che fare con strutture come questa gli eucarioti e così via gli archibatteri eccetera in cui devo descrivere un oggetto scientifico ricorrendo a un certo tipo di bagaglio lessicale molto molto specifico quindi in qualche modo chiamando in causa anche aspetti molto diversi i manuali delle discipline in questo caso non solo anche scientifico ma anche di storia di geografia di filosofia persino sono ricchissimi di spunti linguistici questo è invece un problema di fisica in cui al di là della complessità dei contenuti quello che colpisce è la complessità sintattica un'unica frase un'unica struttura un'unica architettura sintattica che contiene una quantità di informazioni molto ampia in un castello sintattico molto fragile che mette in difficoltà il lettore ancora prima dei suoi contenuti subordinate al gerundio parentesi che in realtà hanno delle informazioni molto importanti positive relative tutto insieme con una difficoltà di districazione molto ampia per dare anche un po' parlare degli esempi in quest'ultima parte ora faccio degli esempi dalle scienze poi se c'è tempo mostrerò anche degli esempi per la matematica vi faccio vedere che cosa è stato realizzato in alcuni contesti scolastici vari normalissimi in cui come dire si è provato a lavorare su problemi legati al testo scientifico la logica è molto semplice non serve neanche la compresenza semplicemente l'insegnante di italiano lavora su un capitolo di scienze qui siamo in una seconda media già studiato con l'insegnante di scienze quindi i contenuti sono già stati studiati non si chiede l'insegnante di italiano di spiegare un contenuto scientifico ma l'insegnante ritorna su quel capitolo da un punto di vista strettamente linguistico e questa è proprio la limma c'è stato scansionato e gli studenti hanno analizzato una cosa che colpisce molto è la difficoltà e l'interesse anche che gli studenti hanno per la realizzazione grafica che molto spesso è una dimensione quasi trascurata presa come dato di fatto invece gli studenti hanno capito il ruolo delle immagini hanno capito il modo in cui con despedienti grafici vengono date delle definizioni o evidenziati dei passaggi importanti e così via poi si è entrati anche nelle strutture sintattiche nelle strategie argomentative e nell'uso delle parole anche qui ci sarebbe molto da dire e ora come dire andrebbe un po' lontano però quello che è stato fatto è proprio quello di prendere le parole utilizzate in questo caso per parlare del moto quindi un argomento diciamo così di fisica che si studia di solito in seconda media e ragionare sull'uso del testo scientifico dei termini specialistici arrivando a vedere come i testi specialistici abbiano siano molto più ricchi lessicalmente di come noi potremmo parlare del moto nel linguaggio comune e quindi arrivare a mettere a confronto l'uso delle parole nel linguaggio comune e l'uso delle parole nel testo scientifico poi alcune parole ritenute particolarmente importanti sono state prese e fatte oggetto di un'olteriore riflessione quindi moto per esempio è stato chiesto di dire in quali ambiti è stato usato di cercare nel vocabolario l'etimologia e di fare una serie di ragionamenti per entrare non tanto nel significato scientifico di moto ma di entrare nel significato nell'uso linguistico di un termine specialistico i risultati sono stati molto interessanti un altro esempio un'altra attività in questo caso legata all'ecologia siamo sempre in una scuola secondaria di primo grado ma in realtà qualcosa del genere può essere portato anche nei cicli precedenti o nei cicli successivi naturalmente qui l'insegnante di italiano ha lavorato con gli studenti alla creazione di un glossario e per la precisione di un glossario doppia entrata in cui lo stesso termine viene definito come lo diresti ad un bambino quindi diciamo un espediente per dire come lo diresti nel linguaggio comune con parole della lingua comune come lo diresti ad un adulto come lo dici nel linguaggio specialistico dell'ecologia e vedete che i risultati sono molto interessanti perché desertificazione questo è esattamente quello che hanno creato i ragazzi con tanto di errori lasciati perché chiaramente è un esempio reale e qui si vede che per un bambino nel corso del tempo alcune parti del terreno si sgretolano lasciando in posto ad una specie di sabbia dove non ci sono piante quindi spiegato con parole semplici ad un adulto invece diremmo che è un processo climatico che coinvolge la superficie terrestre portando alla gradazione del suolo e alla scompassa della biosfera quindi abbiamo spiegato la stessa cosa in termini comuni di linguaggio comune in termini specialistici ancora molto interessante è lo stesso testo di prima ma in questo caso ci si è fermati ad un'analisi ancora più mirata i connettivi i connettivi testuali e gli studenti hanno ragionato induttivamente quindi partendo dal testo sono arrivati loro a capire come nel testo scientifico ci siano delle specializzazioni dei connettivi potremmo dire un pochino più strette e più stringenti rispetto a quello che succede nel linguaggio comune e quindi che significato hanno questi connettivi e in che modo sono usati nel linguaggio scientifico e che cosa distingue l'uso dei connettivi del linguaggio scientifico rispetto per esempio ad altri ambiti di lingua comune un'altra attività in questo caso ci spostiamo anche sulla scrittura e non solo sulla comprensione testuale sempre partendo da un capitolo già studiato con l'insegnante di scienze in questo caso legato alla pelle gli studenti hanno capito come è fatta una voce di enciclopedia in questo caso sono acuti e poi hanno provato loro questa che vedete di qua è la loro scrittura della voce di enciclopedia quindi vedete un esercizio di scrittura su un genere testuale molto preciso che è appunto la voce enciclopedica che ha regole molto particolari a partire da contenuti c'è un microfono acceso che disturba un po' vi chiedo di spegnerle a partire da contenuti studiati nell'ora di scienze quindi un'attività di lingua con l'insegnante di italiano a partire da quanto studiato in scienze e tra l'altro è anche un modo se ci pensate molto interessante di ottimizzare i tempi visto che uno dei problemi principali della scuola è trovare il tempo per fare le cose ma probabilmente trovare delle sinergie tra materie diverse riduce un pochino i tempi perché facciano qualcosa che serve più a un altro ambito anche questo molto interessante da sviluppare è la retorica che si è accorti qui stiamo già in un secondo grado che anche il manuale di scienze usa la retorica usa la retorica per rappresentare far capire dei concetti qui si parla del sistema endocrino e vedete gli ormoni funzionano come i segnali radio se accendiamo la radio eccetera eccetera e attraverso questa metafora della radio faccio capire un concetto scientifico arrivando anche a cose più complesse per esempio parlando in un altro libro di test del sistema endocrino rispetto al sistema nervoso si fa una metafora anche molto ampia per comprendere la differenza tra il sistema nervoso e il sistema endocrino puoi pensare al primo come una rete elettrica che invia messaggi precisi lungoline ben definite a destinatari specifici viceversa il sistema endocrino assomiglia più a una rete televisiva che invia un messaggio meno personale ma è in grado di essere recepito da chiunque abbia un televisore acceso sintonizzato sul canale giusto però qui si scopre che anche i testi scientifici usano la retorica che non è affatto scontato questo ma si scopre anche cosa più interessante che la retorica dei testi scientifici ha un valore particolare ha un valore cognitivo che non è lo stesso diciamo così di altri tipi di usi retorici per esempio letterari in cui magari resta più su un piano di abbellimento e di locuzio qui invece entra potremmo dire quasi come una struttura cognitiva del testo e che apre a grandissime riflessioni sul ruolo dell'analogia nel linguaggio scientifico quindi anche cose molto molto complesse un esempio ancora più semplice in questo caso i ragazzi della scuola media hanno parlato di pelle hanno fatto questo lavoro che abbiamo visto sul capitolo relativo alla pelle dopo averlo studiato con l'insegnante di scienze e qui hanno provato a fare i maestri per un giorno e quindi a spiegare diventare divulgatori di un contenuto scientifico studiato nel capitolo di scienze e anche qui come dire hanno tradotto alcuni concetti del capitolo sulla pelle in fumetti a favore a vantaggio dei loro dei loro studenti degli studenti di primaria a cui dovevano spiegare questi concetti ora non c'è tempo di leggerli ma vedete con degli espedienti narrativi di storytelling hanno spiegato alcuni concetti il viaggio nell'ipoderma eccetera eccetera e qui scusate salto perché ci porterebbe un po' lontano volevo solo farvi vedere come una strategia molto interessante di lavoro linguistico sul manuale di scienze è quello di fare domande come potremmo dire scherzando far sì che i ragazzi diventino autori delle prove invalsi potremmo dire a partire da un testo si esercitino a fare delle domande può sembrare una cosa un po' diciamo così che rovescia la logica a cui siamo abituati ma in realtà funziona molto bene perché a volte con questo espediente i ragazzi sono costretti passi delle domande gli errori di formulazione delle domande che fanno portano a capire meglio alcuni passaggi del testo o a capire meglio il modo in cui sono formulate delle domande quindi diventa anche un modo molto interessante non solo per fare entrare nel testo ma anche per dare degli strumenti come dire di consapevolezza in rapporto a quesiti di comprensione anche qui abbiamo vari esempi in cui questa paginetta sull'acqua può essere interrogata in vario modo con delle domande che entrano o a scelta in cui inventano proprio le domande a scelta multipla oppure domande aperte e creano dei veri e propri percorsi di lettura molto interessanti ovviamente è molto interessante non tanto la semplice creazione della domanda ma il lavoro successivo con l'insegnante che fa emergere anche gli errori di formulazione della domanda perché gli errori di formulazione della domanda spesso si portano dietro degli errori di lettura e di comprensione del testo quindi diventa un modo indiretto che può essere anche visto un po' come un gioco per lavorare sulla comprensione del testo di un testo espositivo in alcuni casi ora non c'è tempo ma è stato fatto proprio un gioco in cui gli studenti divisi a squadre dovevano creare e scrivere delle domande somministrate ad altre squadre e ogni risposta data poi correttamente rispondendo alle domande era un punto positivo ma ci sono anche come vedete dei meno che corrispondono a delle domande mal formulate se la la classe il gruppo scusate non è in grado di rispondere a una domanda perché la domanda è mal formulata si toglie un punto più o meno al gruppo che ha formulato quella domanda è un gioco quindi un'attività ludica ma in realtà poi quando si va a riflettere ora ripeto su questo vado un po' veloce a riflettere su come sono formulate le domande si trovano degli aspetti molto positivi cioè si capiscono e si acquisisce consapevolezza su alcune cose insomma che magari rischiamano di passare in secondo piano in qualche modo diventa un modo per entrare nel testo attraverso la porta delle domande della formulazione delle domande e le considerazioni che i ragazzi poi fanno si può fare su qualunque testo ovviamente è che a volte le domande sono più interessanti delle risposte e che tutti i testi devono essere letti con attenzione qui anche le bollette perché poi di fatto era un sollecito dell'Enel che era oggetto di questa attività di gioco che in realtà è stata molto interessante proprio per la riflessione che si può fare ultima parte volevo entrare su alcune invece attività di lingua italiana a partire da testi matematici e scientifici vado un po' veloce ne farò una carrellata su ognuna di queste cose si potrebbe stare anche a lungo però insomma credo che valga la pena vedere varie cose e poi magari ciascuno approfondirà le cose che più interessano la prima cosa si può fare matematica a partire da articoli di giornale allora chiaramente il fare matematica è una faccenda del collega di matematica che insegna matematica ma capite che l'articolo di giornale che è un testo tra l'altro misto perché come vedete ha molta informazione affidata a grafici a box laterali e altro questa è una cosa che riguarda anche gli insegnanti di italiano leggere un articolo e poi su questo si possono formulare creare delle attività didattiche che possono essere attività didattiche create dall'insegnante ma funziona molto bene l'abbiamo sperimentato in varie attività funziona molto bene quando sono gli stessi studenti che creano delle domande in questo caso di matematica delle attività matematiche a partire dai contenuti di un articolo scientifico c'è persino un libro di Giorgio Bolondi che è un matematico qui a seconda dell'argomento matematico che voglio trattare c'è una proposta di articolo di articolo di giornale più o meno lungo qui si deve ragionare su alcuni aspetti matematici questo articolo consente di lavorare sul calcolo combinatorio e quindi se voglio lavorare sulle frazioni ho altri testi così un altro aspetto che è anche questo molto interessante anche questo molto legato alla fondazione Golinelli di cui parlavo prima l'attività che ho fatto con la fondazione Golinelli è la scrittura di un testo scientifico anche qui molto spesso gli insegnanti notano che quando si scrive un testo nell'ora di scienze gli studenti sospendono qualsiasi regola grammaticale come se scrivere per un testo di scienze non c'entrasse nulla con lo scrivere un testo in italiano e qui probabilmente c'è molto lavoro da fare per togliere questa questa cattiva informazione allora un'attività su cui abbiamo lavorato e che ha dato dei risultati molto interessanti è la scrittura di un poster scientifico i poster sono proprio dei poster di comunicazione scientifica usati anche nella comunicazione dei convegni per esempio nelle materie scientifiche ma ormai anche spesso nelle materie umanistiche in cui io devo seguire un certo modello un modello testuale quindi una struttura testuale data che è quella che si chiama IMRAD introduzione materiali e metodi risultati e discussione e sulla base di questa struttura testuale comunicare dei contenuti scientifici questo alla Golinelli l'abbiamo fatto anche come formazione insegnante cioè si pettevano insegnanti di italiano e di scienza insieme si faceva fare un'esperienza in laboratorio e poi dovevano ridigere insieme il poster scientifico legato a quell'esperienza dei laboratori è stato molto interessante per gli insegnanti lavorare insieme gli insegnanti di italiano con quelle di scienza e viceversa e integrare competenze diverse per arrivare a un prodotto di un certo tipo un prodotto di comunicazione scientifica in classe è stato altrettanto interessante perché il poster funziona bene perché è un testo breve quindi mentre una relazione di laboratorio richiederebbe molto tempo il poster può essere realizzato in un paio d'ore di lavoro può essere fatto a gruppi e quindi può essere oggetto di lavoro di vari gruppi di 3-4 persone e poi l'insegnante confronta e discute e vanno benissimo anche molti salto alcune parti ma poi magari vi lascio le slide il poster creato può funzionare più o meno bene ma va benissimo perché poi sarà attività successiva discutere commentare che cosa funziona che cosa funziona meno bene per capire bene di che cosa stiamo parlando e che tipo di scrittura scientifica è quella più adatta quindi vedete anche come realizzazioni diverse portano poi a un certo uso materiali metodi risultati in tutto in una veste grafica che è un banale powerpoint in realtà quindi si può non è nulla di complesso che porta alla realizzazione di un prodotto di comunicazione scientifica altra cosa anche qui vado molto veloce ma poi se interessa posso fornire ulteriori dettagli creare dei prodotti multimediali legati a discipline scientifiche ma con l'aiuto degli insegnanti di italiano qui funziona molto bene book creator che è un software gratuito con google che consente di creare dei prodotti multimediali degli ebook con immagini testi e cosa più interessante suoni posso inserire anche degli inserti in cui posso mettere la registrazione vocale degli approfondimenti vocali o quant'altro e qui ora non c'è tempo per parlarne ma funzionano molto bene per esempio con gli studenti con DSA quindi io creo un prodotto e qualcuno mette nell'ebook la lettura di quella parte di testo che è molto utile per gli studenti perché si abitano a leggere ad alta voce un testo ed è molto utile per gli studenti per esempio dislessici perché ne traggono un aiuto nella decodifica del testo questi sono prodotti in cui dei contenuti scientifici ora non c'è tempo per entrare nei dettagli vengono veicolati da storytelling da digital storytelling in questo caso quindi si creano delle storie a partire da contenuti scientifici è chiaro che questo riguarda l'insegnante di scienze ma riguarda anche molto gli insegnanti di italiani volevo solo farvi vedere un prodotto molto come dire complesso ma molto bello di una scuola per odontotecnici di Bologna con cui abbiamo lavorato in cui l'insegnante di lettere che fa molta fatica a portare avanti una programmazione di tipo tradizionale per coinvolgere gli studenti ha lavorato nel corso dell'anno su questo ebook sulla cura dei denti nei secoli in cui gli studenti hanno scritto dei testi hanno cercato le immagini hanno creato un prodotto multimediale la cosa interessante è che poi questi test è una classe molto complessa anche perché ci sono vedete più lingue l'arabo l'inglese altre lingue della classe e come dire l'audio dà conto dei contenuti quindi si valorizza anche l'esperienza dello studente è un libro di 50 pagine quindi anche molto ampio in cui gli studenti con cui è molto faticoso fare elaborati di tipo tradizionale invece imparano in qualche modo anche a esprimersi dal punto di vista dei contenuti ultime due cose vado molto rapidamente poi magari ci ritorniamo se ci sono delle domande più specifiche torniamo alla matematica torniamo alla matematica parlando di come si possa anche unire gioco e creatività linguistica rispetto alla matematica apparentemente due cose molto lontane apparentemente molto lontane perché come notava Bakhtin parlando di appropriazione linguistica diceva che una parola diventa propria soltanto quando chi la parla la popola di propria intenzione col proprio accento viene adattata alla propria intenzione semantica ed espressiva ecco un modo per appropriarsi della parola è anche giocare con i testi e giocare con le parole e la ragione per cui fare parodie per esempio di testi letterari che apparentemente sembra una cosa dissacrante è un'attività linguisticamente molto complessa ma anche estremamente istruttiva perché io posso fare la parodia dell'addio ai monti dei promessi sposi soltanto se ho capito a fondo lo stile dell'addio ai monti dei promessi sposi quindi ci posso giocare giocare è una forma di appropriazione questo è un esempio di come in un liceo artistico in un progetto che avevo seguito anch'io con le scuole di Ferrara in questo caso gli studenti di liceo artistico abbiano usato il loro linguaggio dell'immagine con cui lavorano meglio creando un fumetto in cui attraverso il fumetto spiegano un procedimento per la risoluzione delle equazioni fratte delle desequazioni fratte qualcosa del genere quindi in qualche modo il fumetto la realizzazione artistica è stato un modo per far appropriare dei contenuti che altrimenti erano percepiti un po' come distanti un'attività che porto avanti da diversi anni ormai sono quasi dieci anni che lavoro con insegnanti di matematica su questo tipo di problemi è stato un cortocircuito tra gli esercizi di stile di Quenot che tutti voi credo conoscete si parte da che no parte da un fatto questo fatto viene raccontato in 99 modi diversi con 99 stili diversi quindi tutte cose insomma che credo tutti voi conosciate però la cosa se vogliamo interessante la sfida è stata provare a lavorare sui testi dei problemi di matematica usando gli esercizi di stile di Quenot quindi partire da un testo base di un problema e poi far riscrivere con stili diversi questo problema ecco in un articolo che ho scritto con una collega matematica Laura Branchetti che tra l'altro insegna oggi alla statale di Milano abbiamo proprio lavorato su questo e su come diventa una palestra di creatività linguistica anche molto interessante come vi mostrerò ma anche dal punto di vista matematico vi siano moltissime considerazioni che si possono fare perché io trasformo un contenuto matematico da una forma linguistica a un'altra rischio di commettere degli errori o rischiano di emergere anche delle delle debolezze nella mia formazione matematica e allora questo testo base parla di sposi che acquistano una camera da letto con una certa cifra devono realizzare la spesa può essere messo in rima purtroppo non c'è tempo adesso per leggere gli esercizi di stile ma se volete poi vi lascio le slide può essere messo sotto forma di contratto quindi vedete anche l'esplorazione linguistica di generi testuali diversi usando solo il tempo verbale del futuro molto difficile in realtà si capisce l'importanza del sistema dei tempi verbali come se fosse un sogno questo è mutuato da che no oppure drammatizzato messo in scena in questo caso è stato un esperimento fatto in una scuola di Roma lo Stefanelli di Roma in cui gli studenti hanno rappresentato il problema che abbiamo visto prima come se fosse un dialogo tra Jessica Ivano il personaggio di Verdone anche qui molto divertente perché insomma hanno creato una specie di gag che contiene al suo interno il testo del problema quindi è un esercizio di creatività linguistica che mantiene al suo interno la matematica questo è un altro esempio una prova in balzi in cui si parla di Filippo che pratica il triathlon e si allena tre giorni nella corsa sei giorni a piedi è un banale esercizio se vogliamo sul minimo comune denominatore e qui viene reso ancora una volta in rima come se fosse un telegramma con i lipogrammi un esercizio molto interessante inserito in una lettera ufficiale del dirigente al coordinatore di classe quindi qui in qualche modo sono divertiti a portare nel linguaggio delle istituzioni scolastiche e la circolare la lettera del dirigente contiene al suo interno il problema c'è anche un'ironia se vogliamo molto divertente con le esclamazioni usando solo il passato remoto e così via ora non so a vederle tutte però vedete che ci si può veramente divertire se non l'ho messo nella slide un altro esempio di trasposizione del problema è come se fosse un whatsapp e quindi con un botte risposta tra due persone che parlano di Filippo e lo scambio di battute di whatsapp contiene il problema è chiaro che è un modo per vincere questi automatismi nei confronti del testo del problema quello di cui siamo partiti le parole chiave come sistema per non leggere il testo qui non solo devo leggere il testo ma devo farlo mio al punto che ci gioco e un'ultima cosa che volevo mostrarvi anche qui devo essere molto rapido anche questo poi tradotto in un articolo che poi se volete posso mettervi a disposizione il rapporto tra scrittura creativa e matematica i stessi matematici dicono che per spiegare bene la matematica si devono raccontare delle storie vedrei che Villani un noto matematico francese è stato anche candidato al sindaco di Parigi ma è un matematico anche qui c'è un modello letterario che è Flatland di Hebbels molto difficile può essere letto probabilmente un triennio liceale ma lo spunto di Flatland di Hebbels è semplicemente un racconto che ha per protagonisti figure geometriche in cui devo mettere in scena le figure geometriche anche in questo caso con una collega sempre con la collega Maranchetti avevo raccolto quasi 200 di queste storie scritte da bambini tra fine primaria e inizio secondaria in cui io ovviamente da linguista ho studiato la realizzazione linguistica gli aspetti narratologici onomastici delle storie dei bambini ma la collega matematica ha visto come raccontando storie con protagonisti delle figure geometriche emergono molte misconcezioni e se permettete chiudo questa parte con una di queste storie scritte da due bambini i bambini avevano solo l'incipit c'era una volta un triangolo che sentiva disagio perché era basso e tutti gli altri triangoli erano più alti di lui un bel giorno incontrò una circonferenza si guardarono con occhi sbarrati ed angolo coraggioso si avvicinò al cerchio dopo qualche minuto parlarono insieme seduti su una panchina il giorno seguente si incontrerono di nuovo al parco giocarono a mille giochi geometrici alla fine della giornata divennero amici un giorno andarono a scuola e la maestra Chiodini che è molto interessante anche l'onomastica disse oggi ci sarà una gita salirono sullo rettangobus e andarono a geometrilandia incontrarono tutte le forme del mondo sia quelle alte che quelle basse il triangolo e la circonferenza divennero felici perché erano tutti di altezza diversa quindi vedete come si possa tenere insieme con la storia di Marco e Mirko che sono due bambini di quarta primaria l'italiano scrivendo una storia rappresentandola linguisticamente la matematica perché di fatto si rappresentano figure geometriche e c'è qualcosa da dire ma ci sia si possa fare anche educazione civica perché in fin dei conti i bambini hanno preso questo spunto geometrico e ne hanno tirato fuori una morale che è una morale di enfatizzazione valorizzazione della diversità come ricchezza e non come limite il che mi sembra un bellissimo messaggio